Salva gente! Allora, Super Lega, il video di oggi è su questo perché ormai non si parla di altro, giustamente perché è una cosa talmente clamorosa che non può passare così inosservata, bisogna parlarne, no? Perché ognuno si sarà fatto un'idea, soprattutto i tifosi di chi dovrebbe partecipare, quindi tifosi dell'Inter, del Milan, della Juventus, che anzi invito a mettere nei commenti i loro pareri perché ho sentito anche amici che non sono per nulla d'accordo con questa Super Lega, la vedono come una cosa che può durare poco e siccome che poi le cose se dovessero ricambiare, tornare nei loro passi, quindi fare due o tre anni e poi le cose non dovessero andare come dicono loro, il ritornare porterebbe delle conseguenze molto pesanti, quindi anche i tifosi di queste squadre sono molto preoccupati. In Inghilterra moltissimi tifosi del tifo organizzato sono contro questa scelta, quindi la loro idea che tutto andrà per il meglio e faranno tanti soldi non è così sicura, quindi parliamone un attimo. Prima però, tu che stai vedendo questo video, di qualsiasi squadra tu sia, ti consiglio di iscriverti al canale, di provare, poi comunque potrai sempre disiscriverti quando vorrai, ricordati però di cliccare sulla campanellina per rimanere aggiornato su tutti i contenuti del canale e se poi mi lasci un like e così insomma mi dai un sostegno al canale, io ti ringrazio. Allora ragazzi stiamo parlando di questa superlega che nel titolo dico pure superlega o superparaculi, ma perché superparaculi? Perché quasi tutte le società che partecipano sono società che sono altamente indebitate, stiamo parlando di oltre 900 miliardi per alcune società, sono tanti 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 soldi, che sicuramente in questi due anni di covid hanno portato questa società a arrivare vicino a un default finanziario. Quindi questo cosa vorrebbe dire? Che questa società, che se rimanessero nella normalità delle cose, dovrebbero in qualche modo, diciamo, tornare ad abbassare la cresta, a non fare più investimenti, allevare i debiti, allevare il loro patrimonio, allevare i loro giocatori più costosi, tornare ad essere per qualche anno una squadra normale, mantenere i costi bassi, per poi riprendere a macinare, che poi penso dentro sono società che al massimo poi puoi star fermo uno o due anni, ma poi hai talmente sponsor, una fama talmente forte che nel giro di due o tre anni ritorneresti a essere sicuramente una delle più forti. Però loro questo passaggio di umiltà non ce l'hanno, ovvero loro vogliono mantenere il loro status di squadre più forti, squadre con i campioni, tutto quanto così, mantenendo i debiti, ma trovando delle soluzioni per poter comunque abbassare un pochettino questa soglia di debiti enormi che hanno. Quindi che hanno fatto? Dicevo, sai che c'è? Io mi faccio una superlega dove mi arrivano più soldi, me li gestisco io, me li tengo più io, in modo che così posso ogni anno reinvestire e creare spettacolo, mantenendo i debiti che voglio però avendo delle banche che mi finanziano alle spalle. Un discorso che ci può stare per far sopravvivere un club, però perché solo voi? Perché ve le siete scelte? Perché poi è molto limitativo, scegliete voi chi partecipa, scegliete voi come vengono suddivisi e poi soprattutto è un torneo che secondo voi può esistere perché le squadre rimarrebbero nei loro tornei della loro nazionalità e poi invece che la Champions si riuniscono a fare questa superlega, quindi non più Champions o comunque una Champions per chi non partecipa alla Superlega, quindi per tutti gli altri e noi facciamo un mega torneo. La differenza però qual è? Che gli altri per partecipare a quella Champions inferiore ci devono comunque arrivare per meriti di campo e di investimenti. Loro in ogni caso ci hanno il posto assicurato, quindi questo che vuol dire? Che una Juve, che un Milan, che un Inter, che durante l'anno vedono che non riescono a raggiungere, che sarebbe difficile visto che i soldi che gli entrano, non riescono a raggiungere lo scudetto, possono benissimo lasciare l'ultima giornata e giocare i ragazzini perché tanto loro arrivare primi è un conto, dai secondi in poi non gliene fregherebbe niente perché non devono guadagnarsi un posto per qualche competizione, perché ce l'hanno assicurata, quindi loro ogni anno prenderebbero comunque dei soldi e così il campionato viene falsificato, viene falsato. Perché è falsato? Perché per esempio pensiamo a un'Atalanta che la prendo come la prima squadra perché è la prima squadra che sta lottando da anni per raggiungere magari la possibilità di prendere uno scudetto o di giocarsi una Champions importante, come sta dimostrando di saperla giocare. Allora siccome che l'Atalanta non riesce a batterla in Champions, non riesce a batterla in campionato, che facciamo? La seguiamo totalmente? Nel tipo, allora noi facciamo il campionato, rimaniamo nel campionato però intanto lo finanziamo con i soldi che prendo dall'altra parte e mi posso permettere di fare squadroni su squadroni. A quel punto il campionato non esisterebbe perché ci sarebbero tre squadre che già adesso sono diciamo più forti, sarebbero proprio impossibili da raggiungere per tutte le altre. Quindi è un campionato dove solo tre squadre si giocherebbero lo scudetto. E questo non lo trovo giusto. Ma poi squadre che ogni anno hanno possibilità di giocarsi una competizione che le altre forse, forse non si capisce con quali meriti potrebbero arrivare a partecipare. Però se la devono sudare l'ingresso mentre loro ce l'hanno di diritto. Ma dove è il senso della competizione? Non c'è competizione. Perché se io devo fare un culo assurdo perché forse un anno entro in quel momento torneo per fare cosa poi? Per fare cosa se devo competere con gente che sono anni che guadagna miliardi e milioni e milioni rispetto a me? Io entro lì che faccio? È normale che faccio solo una figura del cavolo, no? Cioè non c'è proprio una giustizia calcistica in questo. Ciò non toglie che però queste squadre hanno tutto il diritto di farsi il loro campionato del loro torneo. Hanno tutto il diritto. Però questo diritto porta oneri e onori. Quindi l'onore di essere le squadre più forti che giocano fra di loro, ma l'onere è quello di levarsi da tutte le altre competizioni. Non puoi mantenere campionato perché ti piace giocare al campionato, perché ti porta altri soldi, ti porta comunque altri sponsor e tante altre cose e poi andarti a fare il tuo torneo. No. Secondo me, secondo il mio punto di vista, volete fare quello? Va bene, però accettate che state fuori dai campionati e fuori da tutte quelle che sono le competizioni e tutta l'organizzazione di UEFA e FIFA. Non potete avere uno e l'altro. Ovviamente loro si fanno forza sul fatto, sì, ma io senza de me dove andate? Non è un problema vostro. Vedremo negli anni se effettivamente chi avrà ragione. Se quelli che manterranno il campionato, anche se andranno a prendere inevitabilmente di meno, o quelli che si faranno un campionato fra di loro dove comunque alla fine, per esempio io mi immagino, attualmente già c'è un distacco tra Milan, Inter e Juve rispetto alle altre squadre partecipanti a questa Superlega. È chiaro, no? Immaginate quindi che Inter, Juve e Milan, che in Italia possono fare diciamo un po' le padrone, in Italia non possono più giocare e giocano lì. Diventerebbero secondo me la Fiorentina, il Sassuolo, il Verona di quella competizione. Per me, per me io così le vedo. Quindi tutto questo appeal, un tifoso della Juve che comincia a vedere che per uno, due, tre, quattro, cinque, sei anni la Juve non vince nulla in quella competizione e non può partecipare ad altre competizioni, quindi diventa una società che non più vincente. Secondo voi siete sicuri che questi tifosi sono così d'accordo di continuare a seguirvi? Visto che tanto chi vince continua ad essere sempre più forte, come è successo in Italia, no? Chi vince aumenta i capitali, chi non vince rimane in una situazione standard o addirittura di indebitamento nel cercare di vincere. Secondo me una Juve, un Inter e un Milan, in quella situazione, per vincere devono fare investimenti ancora più grandi ed ecco lì che il debito che tu dovresti risanare i soldi che ti arrivano, in realtà quei soldi li usi per cercare di competere con gli altri e la situazione non cambierà, saranno sempre squadre indebitate e che invece di essere indebitate e vincere in Italia saranno indebitate per perdere nelle altre competizioni. Io non capisco il senso onestamente, fossi un tifoso dell'Inter, della Juve o del Milan ci starei attento a dire sì 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 è meglio giocare lì e andare a prendere soldi, perché ripeto, per competere lì di soldi bisogna spendere tanti. A me sono un concesso che poi i giocatori li facciano, siano convinti di giocare lì, perché se fosse vero che per giocare nelle nazionali devi partecipare a un torneo riconosciuto, professionistico riconosciuto e quello non è riconosciuto né da UEFA né da FIFA, se fosse così ci sarebbe anche il problema che magari ci stanno sentiti e dicono ma io voglio giocare anche con la nazionale, io lì non ci vengo, magari andrò a prendere un po' di meno ovviamente sempre a farsi pagare, ma un po' di meno piuttosto che giocare lì. Potrebbe succedere, come potrebbe invece dire a me, non mi frega niente, le nazionali farà prendere i soldi. Va benissimo anche quello. Però ci sono tanti aspetti che andrebbero calcolati, tra cui se venissero tolte realmente dai campionati nazionali, ma tutto quello che è la primavera, tutte quelle che sono le squadre inferiori giovanili, che fanno? Giocano fra squadre internazionali perché a quel punto tu non puoi partecipare in nessun settore come Juventus, non puoi partecipare in nessun settore. Il torneo di Viareggio, per capirsi, non lo puoi fare. Quindi ci sono anche altri settori che andrebbero a essere danneggiati da queste scelte delle prime squadre. Non lo so. Io mi faccio tante domande ragazzi, le risposte sono ancora poche. Ultima cosa, venerdì sembrerebbe che si vuole prendere la decisione di punire subito queste squadre. Questo lo trovo invece ingiusto. Lo trovo ingiusto come per esempio levare le squadre dal campionato italiano in corso. Questo lo trovo ingiusto semplicemente per un motivo, perché sì è vero che io ti ho annunciato che starò per fare la Superlega, ma è pur vero che ancora non è iniziata. Non si sa esattamente quando inizierà, se questo agosto o se il prossimo agosto. Quindi per me deve prima essere ufficializzata, nel senso ci deve essere un calendario, ci deve essere delle date precise, deve partire la prima partita. Cioè è il momento in cui si ufficializza realmente sul campo con un calendario e tutto quanto e parte la prima partita, tu a quel punto penalizzi, perché è ufficiale. Io questa la vedo ancora come una situazione di trattativa. Cioè ci deve essere una trattativa per cercare di capire come accontentare un po' tutti. Quindi penalizzare adesso secondo me è una gran cazzata, perché non è ancora partito nulla. Si è ufficializzata una cosa che non è partita. Quindi non è questo l'anno in cui devono partire le penalizzazioni, o escludere Inter, Milan e Juventus dal campionato. Perché l'Inter dovrebbe perdere questo campionato, che ancora non ha partecipato a nulla? Ha dato un ok per un'altra cosa, sì, ma quest'altra cosa dovrà ancora avvenire. Quindi quest'anno è giusto che se l'Inter vince si porti a casa il trofeo. Perché deve essere esclusa? Come quelli che partecipano in Champions. Stanno giocando quest'anno in Champions. Ancora questa decisione non è partita. Perché la Champions devono essere tolti facendo vincere il Paris Saint Germain, che furbamente per il momento ha ancora detto di no? Cioè non ha detto nessì né no. È in attesa? Allora che fa? Se la prende e poi quando inizia il torneo va a partecipare. Cioè aspettate di sapere chi partecipa, quando partecipa, come partecipa, se partecipa. E poi verranno fatte le penalizzazioni. Insomma ragazzi, un discorso complicatissimo o un terremoto che ancora non si è fermato. Ci sono ancora situazioni che possono crollare da un momento all'altro. Vediamo se si trova un accordo. Fatto sta che c'è sicuramente una lotta tra due idee di calcio completamente diverse, da due situazioni che o trovano un punto d'incontro che però sia favorevole non solo a queste grandi squadre, ma che sia favorevole per tutti, altrimenti è giusta una scissione. Questo è il mio pensiero, aspetto di sapere il vostro, fatemi sapere cosa è pensare questa superlega e quale potrebbe essere la soluzione per trovare un punto d'incontro tra queste due realtà. Olivia Dolci, al prossimo video.